Il 30 è Wiener Kurz, il 30 è Wiener Kurz. Il 1.500 si classificherà quarto nella classe fino a 2.000. Ed ora alla gran curva di Lessemo il nostro operatore fa bene in tempo ad evitare l'investimento da parte della vettura di Nussar. Il pauroso ribaltamento in colume un pilota svenuto ma in colume anche l'altro. Salvati entrambi dal casco di protezione. Da Monza riprendiamo i concorrenti ad un'altra prova, quella in salita sulla Vermicino Rocca di Papa. Attaccata con piglio aggressivo anche dalle minuscole Fiat 500C. Valenzano primo sul circuito di Monza a oltre 142 di media sarà primo anche qui a quasi 88 di media ed eccoci a Napoli punta estrema della lunga cavalcata percorsi quasi 1500 chilometri ne restano ancora 1300 dal sole di Napoli alle nebbie del nord a Torino prova di accelerazione e frenata retromarcia ripresa e partenza per il setriere il tutto su un percorso di 200 metri con frenata e retromarcia a 150 metri ed ora andiamo verso il Sestriere all'appuntamento con la neve qui si conclude il quinto rally che ha visto la partenza 72 equipaggi e ne registrerà 55 all'arrivo chi non ha mai sbandato sulla strada bianca scagli la prima pietra qui i concorrenti sosteranno l'ultima prova la prova la più impegnativa su tre giri e un percorso di 1200 metri il 34 è Brignone su Aurelia 2000 secondo assoluto quest'ultima prova è particolarmente difficile per le curve strette e veloci e lo strato di neve scivolosa ma Valenzano pur senza catene ha battuto tutti alla fine della sfibrante cavalcata può riposarsi nell'abbraccio della moglie del fratello Gino un abbraccio quest'ultimo che è anche un segno di ammirazione grazie per la visione